Abusivismo edilizio, deficit di depurazione, inquinamento delle acque, assalto al patrimonio ittico e alla biodiversità. Sono solo alcuni degli illeciti amministrativi e penali che riguardano ogni anno il mare e le coste italiane. Un attacco marino che non si è mai fermato neanche durante il lockdown e che anzi fa registrare un netto peggioramento negli ultimi due anni. Lo certifica il report Mare Monstrum 2022 redatto da Legambiente sulla base dei dati forniti da Forze dell'Ordine e Capitanerie di Porto. Tra le regioni messe peggio c'è proprio la Puglia, terza in Italia per illeciti di questo tipo dietro solo a Campania e Sicilia con 6.032 infrazioni accertate nel 2021, praticamente 7 per ogni chilometro di costa. In cima alla classifica del mare illegale c'è il ciclo del cemento rimasto su ballori altissimi, soprattutto nella regione, al quarto posto a livello nazionale con 2.712 infrazioni accertate, quasi il 10 per cento del dato complessivo italiano, 10.670 persone denunciate o arrestate e 320 sequestri. Le coste predilette dai palladini del cemento illegale in forma legambiente sono da sempre quelle del Salento, un dato che trova conferma anche nell'ultima relazione annuale sull'abusivismo edilizio della regione. In un anno i casi registrati in provincia di Lecce sono saliti del 52%. Sul Gargano si trova invece uno degli ecomostri più sconcertanti di tutto il paese, da anni oggetto di denunce da parte di Legambiente nei suoi dossier. Si tratta del villaggio abusivo di Torremileto a Lesina, fatto da migliaia di seconde case, senza fondamenta e allacci a corrente elettrica, acque e fognature, su una lingua di sabbia che divide il mare dal lago. Quanto agli altri illeciti, la Puglia si colloca poi al quinto posto per reati legati al ciclo di rifiuti e in genere ai fenomeni di inquinamento marino. 1182 i reati contestati nel 2021, l'8,5% del totale. Non va meglio sul fronte della pesca illegale con la regione che addirittura guida la classifica nazionale con le sue 223 tonnellate di prodotti ittici sequestrati.